In questo video vedremo come ho realizzato un pc da gaming con soli 300 euro ovviamente con componenti usate e anche qualcosina di nuovo e vi darò anche consigli per realizzarne una magari non uguale ma simile Ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro intendaro pazzo Sì oggi andiamo a parlare di una build da gaming usata e anche molto economica effettivamente che ci permetterà di giocare a tutti i titoli usciti in full hd a buoni dettagli e a un buon framerate di solito sempre al di sopra dei 60 fps Quindi prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche ovviamente se non l'avete già fatto Detto questo vi ricordo anche di iscrivervi al canale telegram di offerte dove lì appunto trovate le migliori offerte di amazon per quanto riguarda l'hardware e i videogiochi Quindi qui calza pennello il fatto che se dovete recuperare qualcosina magari di più economico come un ssd o un case ovviamente il canale telegram viene in vostro soccorso e quindi fate un favore a voi e al vostro portafoglio Detto questo seguitemi anche su instagram e adesso riprendiamo con la nostra build Ma perché ho deciso di realizzare questo computer? Beh per il semplice fatto che mi sono capitate tra le mani nelle ultime settimane appunto le componenti giuste al momento giusto E quindi avendo processore, scheda madre, ram, dissipatore e scheda video ho detto beh qui si viene fuori un ottimo computer E anche un video insomma poi dove posso anche consigliarvi magari non le stesse componenti che ovviamente quando si parla di usato Qui questo grande disclaimer ovviamente non è che trovate qua sotto nella descrizione i link esatti delle componenti che vedrete in questo video Visto che si parla di componenti usate quindi diciamo nel senso lì poi ve la dovete cavare anche un po' e dovete avere un po' di fortuna Vi lascio magari linkato qua sopra il video in cui vi spiego come fare affari per esempio su subito.it Quindi delle strategie che potete adottare per effettivamente trovare i prezzi migliori Però diciamo appunto dovete anche avere come dico sempre in questi video in questo genere di video dovete avere molta pazienza anche Perché non è che andate a cercare la componente e la trovate subito disponibile davanti casa vostra per intenderci Però quindi sì se avete un po' di fortuna e un po' di pazienza secondo me riuscirete a fare una build analoga Forse anche superiore a quella che sono riuscito a fare io con 300 euro circa E appunto con prestazioni magari anche superiori Ma prima di procedere con l'assemblaggio ovviamente vi devo far vedere le componenti che ho scelto e diciamo il prezzo a cui le ho pagate Quindi detto questo via con le componenti Come prima componente abbiamo tutta la piattaforma su socket 1150 Questa è una scheda madre MSI B85 C43 Gaming con all'interno l'i7 4770 Abbiamo poi 16GB di RAM di DR3600MHz in dual channel e un dissipatore Noctua da 4 8-pipe singola torre e singola ventola Tutto questo l'ho pagato da un ragazzo della zona 100 euro e quindi direi che non è male Abbiamo poi nuovo preso da Amazon tramite il mio canale Telegram di offerte Questo SSD della Silicon Power da 500 giga pagato intorno ai 33 euro Adesso non ricordo la cifra esatta comunque davvero poco Abbiamo invece poi la scheda video questa è la GTX 1660 Super di cui avete visto il video qualche settimana fa E questa l'ho pagata 100 euro E' una customizzazione della Asus Rockstrix quindi davvero è un'ottima scheda Vediamo poi, andremo a vedere poi le prestazioni in full HD davvero non sono per nulla male Invece poi abbiamo case alimentatore insieme Queste le ho presi insieme in realtà a un altro, a altre componenti Era un computer completo ma io sono andato a prendere alimentatore case che mi interessavano E anche le altre componenti poi le vedremo in altri video Facendo un conto più o meno alimentatore case mi sono venuti una sessantina di euro entrambi Davvero una miseria ma veramente se poi vi dico le altre componenti che c'erano in quel computer Davvero capirete appunto perché sto valutando così poco queste componenti Beh detto questo non ci resta altro che passare all'assemblaggio Grazie a tutti Grazie a tutti E per passare i benchmark ragazzi come primo gioco abbiamo Fortnite testato in ovviamente full HD A dettagli medio-alti vedete anche appunto dal video la qualità non è per nulla male E otteniamo comunque un FPS medio di 132 FPS con un 1% low di 69.4 FPS Quindi davvero secondo me per Fortnite comunque vanno bene Giocato in DirectX 12 comunque all'inizio dovete fare qualche partita per sbloccare un pochino La compilazione degli shader all'inizio si sarà un pochino di... ci saranno diversi stuttering in realtà Comunque ecco dopo un po' passano ed effettivamente anche così devo dire che è davvero molto molto giocabile Quindi davvero questa scheda e questo PC in generale sono perfettamente capaci di farvi giocare a questo gioco Passando poi a Control anche qui testato in 1080p con i settaggi ottimizzati da Digital Foundry Praticamente quasi tutto ultra E anche in questo gioco otteniamo un FPS medio davvero notevole di 79.6 FPS e un 1% low di 58 FPS Quindi davvero un'esperienza super super fluida per un gioco appunto comunque molto pesante Sia lato GPU sia lato CPU dovuta alla fisica soprattutto di insomma tutto il motore grafico E appunto questo computer è perfettamente in grado di farvi giocare un gioco anche così pesante come Control Senza alcun tipo di problema Abbiamo poi Shadow of the Tomb Raider qui testato sempre in Full HD con settaggi praticamente tutti maxati E dal benchmark integrato otteniamo 83 FPS di media un 1% low che non ci è dato sapere perché non ci viene fuori appunto il risultato esatto Però comunque questo vi posso dire vedete anche dalle clip il grafico del frame rate dai 1000 secondi tra un frame e l'altro Comunque era molto molto stabile una linea praticamente dritta Quindi davvero anche qui un'esperienza di gioco poi che si traduce effettivamente in una fluidità ottima Quindi perfettamente giocabile anche questo gioco con questo PC Passando poi a Cyberpunk anche qui testato con i settaggi invece di Digital Foundry Quindi qualità grafica praticamente uguale a quella dei settaggi ultra però ovviamente con un occhio alle prestazioni Infatti in Full HD senza tecniche di upscaling otteniamo comunque un average di 62 FPS E un FPS minimo registrato dal benchmark integrato che state vedendo adesso di 27 FPS Comunque appunto anche Cyberpunk testando anche la scheda da sola era perfettamente giocabile E diciamo sì probabilmente Cyberpunk è tra i giochi peggiori dal senso dal punto di vista della pesantezza Perché effettivamente sia vedete dal grafico di Afterburner sia CPU che scheda video sono veramente sfruttati molto Passando al penultimo gioco abbiamo Resident Evil 2 Remake qui testato a settaggi alti in Full HD Davvero questo gioco per come è ottimizzato veramente potete giocarlo benissimo appunto ad alti refresh rate Perché abbiamo un average registrato appunto in questa sezione di benchmark che sono solito fare Di 144,5 FPS di media e un 1% low di 79,5 FPS Comunque appunto questo non è un export è comunque un gioco con una discreta pesantezza e discreta grafica E devo dire probabilmente è dovuto sicuramente all'ottimizzazione anche del motore grafico Re Engine Ma gira davvero benissimo su questo PC appunto non sfigurerebbe anche con un monitor ad alti refresh rate E come ultimo gioco ho testato CSGO qui appunto a settaggi medi quindi un pelo più competitivi E otteniamo in Full HD un framerate medio di 174,6 FPS e un 1% low di 80,6 FPS Questo perché appunto non siamo limitati dalla scheda video perché probabilmente anche mettendo 1440p Probabilmente anche 4K forse Otterremo lo stesso framerate ma ciò è dovuto al fatto che CSGO sia un gioco diciamo prevalentemente Che gira su pochi core ed effettivamente diciamo è limitato dal processore Se la CPU appunto avesse avuto quei 500 MHz in più o comunque un'architettura o quel singolo core comunque più forte Sarebbe girato decisamente meglio ma comunque anche così direi che non è male E eccoci qui ragazzi con il nostro computer appena montato e testato E avete visto anche dai benchmark come si comporta diciamo in realtà appunto i test più o meno erano quelli che avete già visto nei video precedenti appunto di GTX 1660 Super e i7 4770 Però questa volta appunto combinate le due cose insieme e devo dire appunto che non storano per nulla Perché appunto la scheda video comunque non ha tutta questa potenza da mandare in crisi Comunque questa CPU che si difende vi ripeto come vi ho già detto nel video molto bene E avete visto da voi che appunto i risultati nei giochi sono secondo me eccezionali Perché davvero se anche nei titoli e sport riusciamo a superare molto spesso insomma a stare sul limite diciamo dei 144 fps ideali diciamo per giocare comunque a titoli appunto competitivi Dal punto di vista dei giochi AAA potremmo dire quindi in terza persona comunque con una componente narrativa forte e tutto quanto anche graficamente molto intensi Quindi riusciamo a stare prende sempre al di sopra dei 60 fps ovviamente in full hd Quindi devo dire che per 300€ mi posso ritenere più che soddisfatto come già detto all'inizio del video Però ovviamente è difficile ricreare una cosa così da nulla Dovete ovviamente vi ripeto ancora avere tanta pazienza e anche un pochino di fortuna e saper destreggiarvi un po' con appunto l'usato magari su Subito o su eBay Ma passando alla parte in cui vi consiglio più nello specifico le componenti che potreste andare a prendere al posto magari di quelle che avete visto in questo video Diciamo il discorso grosso è lato blocco CPU MOBO RAM perché appunto lato scheda video alla fine ci sono veramente tante alternative sotto i 200€ anche Che sono molto interessanti davvero a partire da queste 1660 fino appunto alle vecchie GTX 1070-1080 Ma anche appunto alle RX 580, le Vega 5664 e persino anche le RX 5700 XT, 5700, 5600 e via e tante altre ancora Però secondo me il discorso più importante qui ricade sulla scelta diciamo della piattaforma Perché mentre per la scheda video alla fine il costo è più o meno quello, vi potete prefissare quel budget Per la piattaforma dovete stare un po' attenti perché magari andate a prendere un processore che vi costa poco Poi però se dovete andare a comprare separatamente una scheda madre delle RAM magari soprattutto la scheda madre vi può venire a costare tanti soldi Quindi consiglio tre vie diverse sostanzialmente Una è più o meno quella che ho fatto io cioè andare a prendere un blocco già completo anche usato appunto di una generazione Intel Come la quarta generazione diciamo per la piattaforma per la fascia desktop per non mi andare a spingere al di sotto ecco Quindi ecco anche se trovate un blocco Skylake quindi magari con i 7-6700 o appunto anche un'ottava o nona generazione Intel Ovviamente se appunto trovate tutto quanto insieme ha una cifra molto ragionevole E quindi in questo caso vi consiglio ecco ripeto di prendere tutto insieme così da sapere quanto andate a spendere alla fine da contenere i costi Visto che anche le generazioni successive Intel sono più che adeguate a gestire un PC da gaming insomma anche per fare molto altro Passando alla seconda strada diciamo questa è la più classica cioè andare con un combo tra virgolette Ryzen Quindi Ryzen prima o seconda generazione o se siete abbastanza fortunati anche terza generazione Diciamo questa forse potrebbe essere quella che vi può venire a costare di più se appunto andate a prendere una scheda madre magari anche un po' più con qualche feature In più magari una B450 carina o anche una B550 ma lì iniziamo a spendere davvero parecchi soldi in più E come processore vi posso consigliare soprattutto la serie 2000 e la serie 1000 perché adesso ve li tirano dietro quel processore Visto Ryzen 5 2600 che comunque vanno benissimo in gaming e vanno anche in realtà meglio dell'i7 che è montato qui dentro Essere veduti anche a 40€ Ripeto però qui poi c'è anche un po' l'incognita della scheda madre Attualmente in realtà le B450 comunque le schede madre compatibili Ryzen non dico che iniziano a scarseggiare però ecco i prezzi si sono un po' alzati Quindi anche qui se riuscite a trovare sempre il blocco completo ormai le DDR4 invece ecco quelle ve li tirano abbastanza dietro anche con 40€ Vi portate a casa 16GB di RAM senza problemi Quindi ecco magari se riuscite a tirare fuori un blocchetto magari sui 130€ 140€ quindi scheda madre, processore RAM e anche dissipatore anche se quello stock Secondo me può non essere una cattiva giocata E l'ultima strada è quella di andare su Aliexpress e considerare effettivamente i blocchetti X99 e anche X79 secondo me Perché appunto lì trovate queste schede madre di cui abbiamo già visto in passato diversi video cinesi rifatte nuove sostanzialmente Che supportano questi vecchi processori da server che cioè gli Xeon che erano appunto i processori da server di fascia più alta da workstation degli anni intorno ai 2011 fino al 2015-16 circa E diciamo i processori lì ve li tirano veramente dietro E qui piccolo spoiler vi dico già adesso che nelle prossime settimane vedremo qualcosa di interessante proprio riguardo all'Xeon testandoli per bene appunto su due le piattaforme Quindi mi raccomando rimanete sintonizzati Comunque se appunto i processori ve li tirano dietro le schede madre comunque ve le fanno un po' pagare abbastanza E mentre le memorie invece anche lì le DDR3 veramente prendete anche 32GB perché ormai veramente anche a 40€ vi portate a casa 32GB di RAM DDR3 così da fare anche poi il quad channel se prendete 4 banchi E invece per le X99 andando su DDR4 anche lì magari potete andare a prendere forse o delle RAM direttamente da Amazon o se no quelle da Aliexpress Cercate di prendere ecco magari i modelli con frequenze anche un po' più basse perché tanto quelli Xeon non vanno a sfruttare chissà che frequenze elevate Quindi diciamo almeno risparmiate un po' da quel punto di vista E per concludere vi posso dire che tutte le alternative che vi ho detto insomma anche in modo molto generale Poi qui ci sarebbe da andare a studiare tutti i vari modelli, tutte le varie schede madri Ma in linea di massima queste sono le strade che potete percorrere per andare a prendere diciamo il blocchetto che animerà il vostro computer da gaming usato E appunto sono tutte valide alternative perché tutte queste piattaforme che vi ho detto riusciranno senz'altro a far girare appunto tutti i giochi che avete visto in questi benchmark E anche molti altri che non avete visto anche quelli nuovi senza nessun problema ovviamente se affiancati dalla giusta scheda video Detto questo ragazzi io ho parlato anche troppo spero che questo video vi sia piaciuto Se così mi raccomando lasciate un bel impiace qua sotto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche Vi ricordo anche di iscrivervi al canale Telegram di offerte dove potete trovare mi raccomando anche lì case e SSD e anche le memorie DDR4 Se appunto ne siete alla ricerca per fare proprio un computer simile quindi mi raccomando iscrivetevi E detto questo io vi consiglio ecco due video che se non avete visto mi invito a vedere Uno è quello di quando ho potenziato il pc del mio amico con la 2060 realizzato quest'estate E l'altro invece riguarda la build usata che ho realizzato a ottobre 2022 con un costo di circa 600€ Detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi